L'inaugurazione questa mattina per la sistemazione a verde e cessione dell'area tra la via Aurelia e la pista ciclabile ha realizzato a scomputo degli oneri relativi al progetto di recupero e riqualificazione ambientale del cosiddetto lotto Gersi. Per il sindaco Alessandro Magher tra l'altro è stato il primo taglio del nastro. Sono molto contento di aver tagliato proprio questo nastro perché è un'opera bellissima. Peraltro devo ammettere, lo faccio volentieri, che io non ho nessun merito per questa opera perché il merito va scritto totalmente all'amministrazione precedente, in particolare all'assessore Donzella che anche in epoche in cui ancora non sapevamo se saremmo stati noi a amministrare la città mi ha sempre parlato di questo intervento con grande entusiasmo. Assessore ci spieghi tecnicamente come è stato effettuato questo lavoro che di fatto è uno scomputo da oneri di urbanizzazione. Diciamo che quando le cose vengono bene, come in questo caso, i meriti sono sempre da condividere con molte persone e qui devo dire che abbiamo lavorato in tanti perché gli uffici hanno dimostrato una particolare attenzione e interesse per rendere bella quest'area e sarebbe veramente interessante pubblicare quello allo stato precedente, veramente una zona abbandonata. E allora abbiamo voluto fare una ricostruzione della tradizione del nostro territorio, infatti vediamo i contrafforti con gli archi, con le piante della macchia mediterranea, con una pavimentazione che è drenante, illuminata di notte, insomma un intervento bello, interessante con la possibilità, e questo è molto importante, di replicarla perché il Comune ha appena acquisito l'area a Ponente dove verrà realizzato un parcheggio a servizio della ciclabile, a servizio delle spiagge e poi ci saranno delle attività commerciali che abbiamo appena approvato, molto ridotte, che sono consonanti con il territorio, però tutto questo ha un effetto che deve servire come atto di emulazione, cioè se le cose sono belle diventano circoli virtuosi e si copiano, 500 mila euro circa di interventi, insomma credo che tutto questo renda onore ai committenti, a coloro che quindi lo hanno realizzato, ai tecnici esterni, interni e all'intera amministrazione.